Millennium Storm presenta No, mi prego! Ehi, ma che vuole? Stia tranquillo! Allora, per favore, lasciate questa donna! Lo so testare il mio bambino! E lei? Chi è lei? Un po' di gentilezza! È un straniero, lei? Eh, ma chi si crede di essere? Lei è inglese? Sì, sono inglese, ma abito qui. Grazie, signore. Porco inglese, ma se ne cammiono! Dal protagonista di 007 Casino Royale, Daniel Craig, una storia di passione, di amicizia, di battaglie e di onore. Squadra di destra, avanti, marci! Sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra! Questo non è marciare, signor Trimmer, questo è scolettare! Ci provi ancora, signor Klausbeck? Tornate nella vostra stanza e non ne uscite finché non sarete convenientemente restito. Dieci sterline è il primo che mi colpisce! Coraggio! Nugolo di patetici bastardi! Fuoco! Fuoco! Una vincente epopea sulla desolazione della guerra. Andatevene! Andatevene via! Dove solo la lealtà e il senso profondo della virtù riusciranno a trionfare. Sapete dirmi... sapete... sapete dirmi dov'è andata? State giù! Questa è la mia amica che è ospite da noi, la signora Troy. Ci rincontriamo. Salve Trimmer! Ciao! Bombardieri! Tratto dalla celebre trilogia di Evelyn Bull. Sword of Honor. Da novembre a noleggio. Dove.